È arrivato il pampone di Bitcoin, è arrivato quello anche di tante altre cripto che si sono avvicinate alla soglia di resistenza numero 1, cioè il livello di resistenza veramente più importante di tutti, quello dei 25.500. E 5, indovinate un po', ieri l'hanno toccato, hanno fatto il touch and go, si può dire così? Sì perché in realtà Bitcoin vedete ha tentato anche il touch di questo livello 25.300 e subito è crashato, quindi ha messo la manina, no? Un pochettino come la mano sul fuoco, poi l'ha tirata su indietro. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, andiamo a fare un recap di questa settimana estremamente bella, allegra dei mercati delle cripto, sì, ma ancora non cattate vittorie perché in realtà la vera, vera resistenza non l'ha toccata Bitcoin, è vero, nella giornata due giorni fa circa ha fatto quel super pump che ci ha fatto sorridere veramente un po' tutti quanti in concomitanza con quello che era stato l'ultimo video dove dicevo stiamo attenti, nei prossimi giorni invece si è sparato 10 punti per cento. C'è da dire che l'unico a questo punto indicatore che più di tutti va a darci una conferma quasi certa al cento per cento della direzione dei mercati è una moneta d'oro di Bitcoin che a fortuna anche l'altro giorno ragazzi è funzionato. Allora come mi avete detto un po' tutti quanti io la ritiro oggi però da statistico classico vi dico che è difficile che due su due, vabbè io comunque la tiro, oh mio dio dove è finita? E' di nuovo, c'è una miseria di nuovo ragazzi, long tutto il weekend ma vediamo. Va bene allora ancora una volta la moneta dice la sua ma io ci credo poco questa volta vabbè andiamo a vedere ragazzi oggi cosa facciamo? Vediamo un po' quello che sta succedendo, il livello dove siamo arrivati di Bitcoin è estremamente rilevante ma poi io voglio farvi vedere un grafico perché Bitcoin sarà contro tutti. Bitcoin contro tutti nelle ultime settimane, Bitcoin e altre cripto contro i mercati old, sì perché i mercati old in realtà non sono messi benissimo dal punto di vista di analisi ciclica, ho rifatto una serie di conteggi, mi è venuta un'idea, ho trovato una chiave di lettura che secondo me può essere estremamente interessante, volevo condividerla con voi, non è una chiave di lettura di cui sono convintissimo al cento per cento perciò vi chiedo tutti quelli che siete estremamente consapevoli e avete una buona formazione anche in analisi ciclica e tecnica dei grafici sul trading, commentate questo video, fatemi sapere cosa ne pensate di questa view che andiamo a vedere sul Nasdaq 100 ed SP500, quindi fatemi sapere cosa ne pensate anche voi perché è interessantissimo valutare uno snodo, un punto di snodo che avverrà fra una ventina di giorni circa, ve lo spoilerò già questo, è quindi interessante valutarlo perché potrebbe darci un'indicazione anche su un punto che dovremmo fortemente attenzionare per magari un riaccumulo di Bitcoin e delle altre cripto, ma vi faccio vedere anche un grafico interessante perché un vostro utente mi ha mandato un messaggio sui commenti, mi ha detto Mauro, incredibile, il buy the dip che avevamo indicato in quel video, l'ha preso alla perfezione ragazzi, questo è lo stesso grafico che vi ho condiviso tempo fa, sulla possibilità che per la prima volta il mercato desse un buy the dip dopo un anno, validato da un punto di vista statistico, a favore di trend da un punto di vista statistico, corretto da un punto di vista statistico, ovviamente da qui ragazzi vedete là il concetto della precisione anche dell'analisi tecnica, non è analisi ciclica questa, è analisi tecnica incredibile veramente, anzi troppo preciso, se lo rifaccio altre dieci volte non ci riusciamo, però questa volta insomma ci siamo riusciti, allora il buy the dip è avvenuto con precisione, ma proprio su questo grafico, volevo il grafico pad pomo che abbiamo visto, in pratica eravamo in questa zona, quando ho fatto questo grafico, e vi faccio vedere la resistenza umana, vedete il touch and go di nuovo, cioè Bitcoin ha toccato, teoricamente anche sfondato di qualche dollarone, perché siamo a 25,2 su questo grafico di Bitstamp, è 25,2 e 70, quindi 25,2 e 12, 25,2 e 70, teoricamente ha breccato i massimi di agosto, sapete bene che è completamente insignificante, questo breakout, o almeno io lo considero così, perché è un mercato estremamente volatile, quindi andare a vedere i 20 dollari sul mercato non regolamentato, considerare un breakout non è giusto, tra le altre cose è subito ritornato indietro, questo è un palese doppio massimo, non è un breakout, quindi ancora una volta ragazzi, Bitcoin mischia le carte, non ci fa capire con precisione se possiamo abbandonare la view del ciclo annuale chiuso a giugno e addirittura ribassista, nonostante questa fase rialzista, è vero che nell'aria ragazzi si ha sempre di più l'idea che il ciclo annuale sia iniziato a novembre, però ancora abbiamo quelle ipotesi lì, la dobbiamo ancora tenere sotto stretta osservazione, perché in realtà questo touch non produce un effetto dilumpente, in quanto non è riuscito a breccare questo livello. Attenzione tra le altre cose perché volevo anche indicarvi il concetto che qualora Bitcoin dovesse effettivamente breccare quella che è la sua resistenza madre 25.000 e 5 circa, dovrà comunque confermarlo in close daily. Se qualcuno di voi pensa che sia possibile poi entrare dopo il breakout di questo livello, secondo me, questa è una mia opinione, non lo sarà ragazzi, perché se i mercati cripto dovessero effettivamente andare a breccare quel livello, io mi auguro non lo facciano nel weekend perché il weekend non è validato da tanti punti di vista, quindi se fa una cosa del genere nel weekend Bitcoin ragazzi non lo apprezzerei in maniera rilevante, quindi preferisco che avvenga magari nelle prossime settimane. Una data utile, già ve la indico, ve la faccio vedere anche a livello ciclico, una data utile è dopo questa close, che è una close di un ciclo piccolino di Bitcoin che si chiama ciclo settimanale e in effetti dopo martedì, quindi in pratica considerando che oggi è venerdì dobbiamo stare sabato, domenica e poi c'è lunedì, quindi pochissimi giorni, qualche giorno, quindi considerando che due sono il weekend, quindi non hanno molta rilevanza, non dovrebbero avere molta rilevanza, a quel punto martedì potrebbe essere una giornata di reprise, magari di un nuovo trend e se in effetti prova il retest di questa resistenza da martedì in poi, mi piace molto di più. Attenzione perché quello che potrebbe succedere è molto chiaro ragazzi, cioè potrebbe accelerare bruscamente andando verso il successivo livello di resistenza, cioè superato questo livello di resistenza, in questa struttura di prezzo non c'è nulla ragazzi, perché qui a giugno siamo andati in crash euro due giorni diretti, ciò significa che questa zona che vedete tra i 20, io adesso qui ho messo il livello di resistenza in close, ma se consideriamo una shadow dobbiamo considerare ovviamente questa zona qui, la mettiamo però un po' più piccolina e magari tratteggiata, quindi superare questa zona porterà poi Bitcoin ad accelerare bruscamente verso questo altro livello ragazzi, secondo me non è facile che si fermi a metà strada, sono sincero. Quindi perché questo lo dico ragazzi? Perché all'interno di questa struttura di prezzo tra 25 e 5 e 28 circa, non c'è assolutamente nulla. C'è anche da dire che una delle mie analisi che stiamo seguendo in Academy, che ha una posizione long a livello mensile, quindi che fa una sola posizione, un solo trade al mese, ha un target intorno al 26 e mezzo, 27 mila dollari, quindi questo livello potrebbe essere effettivamente raggiunto già da febbraio qualora i 25 mila e 5 fossero breccati. Per questo vi dico che entrare posto questo break sarà secondo me difficile di Bitcoin se dovesse farlo. Se invece non lo fa, che succede? Beh che succede ragazzi? Che ha fatto la prima coppa del cammello, il famoso cammello cammello cammello, lo vediamo magari su questo che è più semplice da andare a vedere, cioè ha creato la prima struttura app del eventuale cammello ed è possibile che avvenga in effetti una cosa del genere assolutamente possibile fin tanto che stiamo sotto questo livello, perché fin tanto che stiamo sotto questo livello non abbiamo un trend al rialzo, quello che vedete in questo caso non è un reale trend rialzista di lungo periodo, è di breve medio periodo, ma è ancora in vara di congestione perché non ha superato questo livello. È vero che ha fatto una curva, quindi sicuramente sta creando una nuova struttura ciclica, però fin tanto che non superiamo questo livello non c'è niente da indicare da un punto di vista proprio tecnico, restiamo in vara di congestione. E quindi quello che avete visto finora è un trend al rialzo un po' cappato, no? Quindi quello che abbiamo visto anche il più 10 dell'altro giorno è ancora poco rispetto a quello che potrebbe avvenire, che appunto potrebbe avvenire in pochissimo tempo al break di quel livello, un mercato potrebbe avvicinarsi a 28.000 in maniera estremamente veloce, magari in uno o due giorni neanche o qualche ora, perché è un po' sottile Bitcoin, ci sono tante cose dietro, c'è molta riflessività, c'è anche molta voglia di salire e soprattutto sta un po' pedalando per i fatti suoi. Mi rivolgo anche a questa cosa e apro il discorso invece di Nasdaq 100, che era il grafico nuovo che vedremo oggi ragazzi. Il grafico di Nasdaq 100 ci porta una view che volevo condividere con voi, che è esattamente questa qui. C'è una view che probabilmente sarebbe anche possibile assistere nell'arco dei prossimi 10-20 giorni a delle fatti laterali ribassiste e del mercato hold, fino alla chiusura di un ciclo che andrebbe a concludersi verso la prima decade di marzo. La prima decade di marzo a questo punto chiuderebbe un ciclo anche per i mercati hold, dando anche una nuova linfa ai mercati, eventuali cripto, di ripresa successiva. Questa è la vera domanda, quindi se Bitcoin reggerà, secondo me, questa fase, già lo sto facendo perché vi faccio vedere già per esempio quello che è la fase attuale della struttura di Nasdaq, che comunque ha toccato un massimo sul giorno del 2 febbraio e dal 15 giorni sta facendo un laterale ribassista, ragazzi. Da 15 giorni fa un laterale ribassista, mentre abbiamo un Bitcoin che dal 2 febbraio ha fatto un laterale rialzista. Vedete? Ha fatto una menos e poi un pump che si è riportato qui. Quindi un po' decorrelato, anche in base al grafico che vi avevo fatto vedere lo scorso video. Ma c'è da dire che da un punto di vista ciclico, vi ho messo delle clause per delle centrature cicliche. Sto valutando queste ipotesi cicli da dei mensili che sono da 25 barra 30 giorni, ma uniti. Quindi in questo caso non si è visto in pratica, secondo me, il ciclo mensile di Nasdaq. Avevo questo dubbio perché stavo valutando questo livello qui come struttura ciclica di inizio mensile, ma poi gli ultimi due giorni, meno 1,90 e meno 1,40, quello di oggi, quindi queste due candele estremamente ribassiste, mi hanno fatto un po' riflettere sul fatto che qui il mercato possa aver chiuso in effetti una struttura ciclica mensile. Intanto è troppo lungo, da un punto di vista che è tecnico, secondo me è un po' lungo, perché sono, è vero, 30 giorni, 30 barra, però sono 44 giorni. Non so, ragazzi, mi dà l'idea e dà l'impressione anche rispetto ai cicli di Standard & Poor's 500, che sono questi, che questo tipo di grafico stia andando verso una close di due cicli accorpati in una forma che è più o meno così strutturata. Quindi, insomma, una forma che alcuni potrebbero definire, qui c'è stato il mensile, adesso sta avvenendo a ribasso e andiamo a chiudersi. Sì, questo potrebbe essere anche valutato in questo modo, però in linea di massima preferisco, vedete, in questo caso sarebbe 21 bar, quindi un mini ciclo, in pratica, che porterebbe poi alla close. Preferisco valutare il ciclo nella sua interezza, cioè un po' più lunghetto, 76 giorni, 50 barre. Questa struttura, valutatela anche voi, fatemi sapere cosa ne pensate, un'opinione, quindi un video ogni tanto anche di condivisione, di share, tra di noi e di idee generali, di quello che pensano anche tutti i follower, quelli che magari sono dei trader, perché no, advance, e magari possono dire anche la loro, ragazzi, iscrivetelo nei commenti, ovviamente lasciate gli scammere, che ogni tanto li cancelliamo. Mi raccomando, ragazzi, ho pubblicato anche un altro posto. Stiamo provvedendo alle denunce, per quanto riguarda l'Italia, insomma, ma non ce le fanno fare online, quindi, insomma, non so come devo fare, devo rientrare, insomma, per fare queste denunce, eccetera, è un po' complicato, però, denunce per segnoti, che sarà inutile praticamente fare, però voi state attenti, non vi fate fregare soldi dagli scammere, che vi scrivono a nome mio, non vi scriverò mai nulla, ragazzi, vi voglio bene lo stesso, ma non vi scriverò mai nulla, proprio per proteggervi da questa cosa qui, quindi, nessun investimento, non vi proporò mai nulla, e questo, sono chiarissimo nel dire, se vi scrive qualcuno a nome mio, è uno scam, e non potete scappare da questa cosa, fate attenzione, non vi fate frodare da queste persone, va bene? Mi raccomando. Allora, questa struttura di Nasdaq, secondo questa idea, abbiamo una scadenza intorno al 14 di marzo, che potrebbe essere delicatissima, e quindi, in pratica, potrebbe indicarci una sorta di debolezza, verso fino alla fine di questa struttura. Attenzione, perché, se Nasdaq fa il brusco, quindi fa il cattivello, quindi noi qui iniziamo ad avere delle strutture di pesanti ribassi, tipo una cosa del genere, allora, secondo me, Bitcoin non sarà esente da una cosa del genere, quindi, non riusciremo a breccare i 25.500, e a quel punto, a meno che non lo fa in weekend, quanto Nasdaq è chiuso, la prossima settimana, inizieremo a soffrire, e quindi cambierà un po' la logica del breve periodo, e questo andrà valutato, assolutamente, ma, qualora Nasdaq facesse invece, una barra di congestione, laterale, ribassista, cioè una cosa del genere, potrebbe darsi che Bitcoin, possa accelerare proprio, negli swing a rialzo di Nasdaq, sfruttando, il cosiddetto effetto, bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto, cioè nel momento in cui, vede che gli old vanno su, diceva, ah wow saliamo, poi quando vanno giù, vabbè respiro, però aspetto, non voglio, un po' come sta facendo oggi, che guadagna due punti percentuali, nonostante Nasdaq perde due punti percentuali, quindi un po' una forma, di decorelazione, sta avvenendo, da, tra Nasdaq, 100 SP, 500 e Bitcoin, e questo l'abbiamo visto, anche nell'ultimo grafico, quello spread, tra Nasdaq e Bitcoin, che in effetti, è a un livello di snodo, e se Bitcoin, dovesse proprio accelerare, nella prossima settimana, contro Nasdaq, che invece, fa laterale, ribassista, quindi non proprio, un crash, ma un laterale ribassista, allora, anche sul grafico, che abbiamo visto, l'altro, nell'altro video di mercoledì, si potrebbe assistere, in effetti, a quel breakout, molto rilevante, se dovesse succedere, chiaramente lo riguardiamo nel canale, ma questo grafico qui, ci dice anche un'altra cosa, questa data, questa zona, ragazzi, fine mese, la prima decada, scusate, del mese di marzo, è una data importante, perché qualora poi, Nasdaq da qui, iniziasse una nuova fase, perché no, potremmo avere, una nuova zona, di app, ancora una volta, per Bitcoin, per il re, e dovesse, poi andare avanti, di questo, a questo passo, indicherebbe, una zona, di giugno, invece, per chiudere, tutti i giochi, attenzione ragazzi, perché ci stiamo avvicinando, ancora, siamo al secondo mese dell'anno, ma da, fine marzo in poi, inizieremo a ragionare, anche, da tanti punti di vista, per esempio, da target, per il 2023, da un livello di resistenza, per l'intero anno 2023, vi avevo già indicato 28, vediamo se ci arriva, intanto, al momento, è ancora intatto, quel livello di resistenza, perché ragazzi, perché se siamo in un mercato cammello, è molto importante, a quel punto, usare dei take profit, o comunque, avere le spie aperte, anche quando andiamo a raggiungere, quel determinato livello, faremo sempre, trend follower, però, a una prima, livello di inversione, a quel punto, potremmo anche decidere, di prendere, tutti i cash, rev in barca, e, scappare, vabbè, poi vedremo, un po', questo è però, secondo me, da, fine marzo in poi, da, d'aprile, diciamo, quindi, dopo il primo quadrimestre, il primo quarter, va bene, detto questo, fatemi sapere, cosa ne pensate, della view di Nasdaq, si scende, o lateralizza, fino a marzo, al, prima decada di marzo, e dopo ci dà, il boost, ancora di più, sul mercato delle cripto, cosa ne pensate voi, fatemelo sapere, anche nei commenti, e noi ci rivediamo, nel prossimo video, buon weekend, a tutti, ciao raga!